Benvenuti al Grande Fratello VIP Quest'anno sarà Un Grande Fratello VIP Pieno di emozioni Ne vedremo sicuramente Delle belle A condurre ci sarò io Per il secondo anno Per chi non mi conoscesse Sono Maria De Filippi Presenterò anche quest'anno Il Grande Fratello VIP E sono molto emozionata Per Questa seconda edizione Ringrazio veramente Chi mi ha voluto nuovamente Qui al timone Di questa fantastica Esperienza Entriamo nel mio piccolo studio E poi faremo entrare I primi sette concorrenti Di questa edizione Che ricordo che sono 18 Entriamo subito Nello studio Eccoci qui Un piccolo studio Poiché comunque Ci sarò solo io Non ci saranno i pignonisti In questa edizione La prima cosa Che adesso Faremo E La prima cosa Che adesso appunto Faremo E accendere le luci Dello studio Perfetto Grazie mille Grazie mille agli autori Mentre invece Adesso Iniziamo a fare entrare I primi concorrenti All'interno Della casa Del Grande Fratello VIP La prima cosa Che faremo E Accendere anche Le luci Della casa Del Grande Fratello Eccole qui Abbiamo La camera da letto Cucina Poi Stanza trucchi Il bagno Poi Abbiamo Il bagno Poi abbiamo Il salotto Il fantastico Confessionale Poi abbiamo La stanza blu Dove avverranno Varie cose All'interno di questa stanza Che vedrete Nel corso Delle varie puntate Il giardino E la fantastica piscina Il primo VIP Che deve raggiungere La passerella È Cristiano Malgioio Uno dei VIP Più conosciuti Che entrerà Per la terza volta All'interno Della casa Del Grande Fratello VIP Ciao Cristiano Benvenuto Sei veramente Bellissimo Veramente Sei spettacolare Cristiano Complimenti Bene Cristiano Puoi entrare Nella casa Del Grande Fratello VIP Approfondiremo Approfondiremo Nel corso Delle Varie Delle puntate Comunque Anche Il tuo Rapporto Che hai avuto Con i tuoi genitori E con la tua famiglia In generale Vediamo Cristiano Che va Il primo A barcare La porta rossa Ti puoi Accomodare Sui divanetti Grazie Grazie mille Grazie mille Grazie mille Con Cristina Andiamo 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 invece Al terzo VIP Che Ho voluto Soprattutto Per la sua Simpatia Ed è Cecilia Capriotti Cortesemente Raggiungi La passerella Ciao Cecilia Sei veramente In splendida Forma Sei molto Molto Bella Complimenti Cortesemente Anche tu Raggiungi I divanetti Grazie mille Poi Abbiamo Sulla passerella Pierpaolo Pretelli Che ha fatto Vari programmi Tra cui Uomini e donne E adesso Lo abbiamo Alla casa Del grande fratello Ed è Completamente Single Per Pierpaolo Anche tu Entra Nella casa Del grande fratello Poi Abbiamo Un Youtuber E Su Social Veramente Fantastico Tommaso Zorzi Conosciutissimo Ed è Molto Sarcastico Nei confronti Di tutti Ciao Tommaso Sei Veramente Bellissimo Complimenti So che Per te Sarà Comunque Una questione Di lancio Per fare Vari programmi E quindi Ti auguro Con tutto il cuore Che questa esperienza Possa essere Una delle migliori Per te Puoi Cortesemente Accomodarti Sui divanetti Abbiamo Poi Rosalinda Cannavo Che cortesemente Puoi raggiungere La passerella Vai Rosalinda Corri Anche tu Hai Una storia Molto Molto Particolare Che scopriremo Nel corso Delle varie puntate Attualmente Sei fidanzata Con Giuliano Ed hai una storia Da dieci anni Con lui Nel corso Delle varie puntate Scopriremo Di più Su di te Cortesemente Raggiungi Anche tu I divanetti L'ultima Vippona Ad entrare Nella casa Del grande fratello È Diane Mello Se puoi Raggiungere Cortesemente La passerella Ciao Diane Sei veramente Bellissima Con questo Vestito Dorato Anche tu Sei completamente Single Come Pierpaolo Entra Nella stanza Del grande fratello E per ora Così Siete al completo Vipponi Siete Sette Vip Iniziali Poi Come saprete Ci saranno Altri Undici Vip Che dovranno Varcare La porta Rossa Ma questo Solamente Nel corso Delle altre Puntate Quando ci saranno Le prime Eliminazioni Vi dico Che Questa sera Le nomination Che farete Saranno Palesi E Vi dico Soltanto Questo Chiudetemi Il collegamento Con la casa Allora Vi devo Vi devo Un attimino Spiegare Le regole Di questa edizione Del grande fratello Vip Allora I vipponi Non sanno Che Praticamente Le nomination Di questa sera Non decreteranno L'eliminato Della prossima puntata Ma il meno Vip Ma il meno votato Andrà Direttamente In nomination Della prossima puntata E a quel punto Ci saranno Le eliminazioni Poiché Anche se Questa sera Faremo fare Le nomination Come di consueto Nel grande fratello Non conoscendosi Non conoscendosi Approfonditamente Sono comunque Nomination Fatte In modo Superfluo E quindi Ehm 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 Giusto Così Che comunque Il vip Che verrà Meno votato Non verrà Eliminato Ma andrà Direttamente Al televoto Per la prossima Puntata Collegatemi Con i vipponi Vipponi Salve Allora Benvenuti Comunque A questa edizione Siete Veramente Bellissimi Le Farete Le nomination Palesi Il primo A fare Il nomination Cristiano Vai al centro Della stanza Apriamo Le relazioni Vediamo Con chi Hai Una relazione Più bassa Ed è Francesco Un voto Quindi Per Francesco Il secondo Che chiama A fare La nomination Palesi Appunto Francesco E Nomina Tommaso Zorzi Grazie Grazie Francesco Ne abbiamo Un voto Per Francesco Un voto Per Tommaso Chiamiamo Alle nomination Palesi Cecilia Che Vota Anche lei Tommaso Quindi Abbiamo In questo Momento Due voti Per Tommaso E uno Per Francesco Chiamiamo Pierpaolo Alle palesi Che vota Diane Mello Ti puoi Accomodare Tommaso Che vota Francesco Pini Bene Andiamo a Rosalinda Al centro Sempre Della stanza Cortesemente Che Che nomina Francesco E infine Diane In questo Momento Abbiamo Più voti Per Francesco E Tommaso Che nomina Pierpaolo Ok Quindi Vi comunico Vipponi Che Andranno Al televoto Per questa Settimana Tommaso E Francesco Cortesemente Vipponi Accomodatevi Sulla Poltrona Rossa Vicino Al confessionale Grazie Voi due Quindi Sarete Al televoto Per questa Settimana Il televoto Verrà chiuso Settimana Prossima E decreterà L'eliminato Per Il primo Eliminato Di questa Edizione Chiudetemi Il collegamento Con la Casa Ok Come vi ho Detto In realtà Non decreterà L'eliminato Ma Semplicemente Il meno Votato Andrà Al televoto A quel punto Poi Ci sarà L'eliminazione Definitiva In ogni caso E volevo spiegare Un po I metodi Per votare Sono Semplicemente Tramite Le Instagram Che effettueremo Appunto Il moderatore Delle storie Giornarialmente Il televoto Viene chiuso Sempre Il giorno Prima Della puntata Che ci sarà Ogni lunedì Sera E Detto questo Collegatemi Con la casa Per i saluti Vipponi Salve Allora Vi auguro Una buona Permanenza Nella casa Era giusto Una Serata Di presentazione Ufficiale Dei concorrenti Mi raccomando Conoscetevi Meglio E passate Una buona Settimana Noi ci vediamo Lunedì prossimo Buonasera A tutti Ciao Ciao